Facciamo un pane? Il pane è fatto in casa, come i tempi antichi, no? Sì, sì. Allora, che sta facendo signora? C'è una macchina. Ah, c'è tutta, tutta? Tutta. E com'è? Non è male come io, lui. Hai visto? Chi si chiama? C'è chi facciamo il pane? Amadiglia. Amadiglia. Amadiglia è come una volta. Diciti, diciti. Diciti tutti, che più cose si sanno più più, che resta non c'è la storia queste cose. Prima di tutti, come ti chiami? Ecco, ha ragione. Perenza. 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 E così giovane, com'è mai ti faranno compagni? Ah, ah, ah. Te l'ha fatto un po' di sogno che imparavano. Sì, ma tutti imparavano. Mamma. M- inizio. Molta? Sempre. E quanto imparavano? Un 4 litri. 9 passionati. E non lo potevamo, non lo trasportavano mai. Non lo cattavano più di sole. Non lo potevamo. Ma quando facciamo salire. E ora facciamo un cuoco. Quanto piglia bisogna? Quando facciamo una mezz'ora. Una mezz'ora. Quanto era? Quanto era una mezz'ora? Vedi e a cuocci tutto il peggio. Quanto è un peggio? A cuocci tutto il peggio? Qua c'è il pieno e non c'è il pieno e qua c'è il pieno. E poi conservavamo i panni? C'hanno un sacco. Si manteniamo buono? Ha ragione. Il pieno è importante. Ma non c'è la carina? E la carina c'è la città? E la carina c'è la città? I molini? Ma c'è la città? Ah, c'è la città. C'è la città. E non c'è la città. E la città? Che c'è la città? Allora, c'è... Vieni, mi chiedo vicino questo attrezzo. Vedevo che c'è la marina signora, come si chiama? Ocrivo. Ocrivo. Allora, quanto kg di acino stavolta? 10 kg. Qua c'è di grano tenero, Puga che mantieni? No, 5, ho lavato. C'ho lavato. Ah, ho lavato Puga, guarda, lo vediamo allora. Puga, questo chi è? Questo è di grano d'oro. Di grano d'oro, quanto kg? 3 kg. 3 kg di grano d'oro? 2 kg di grano d'oro. Ah, 2 kg di grano, l'hai visto? Come vede più scuro, no? Più scuro è da mettere per l'ombra. E ora non tanto vanno qua in casa. No, infatti andiamo qua. Ora faccio i panichicci. Ma non c'è quello. La foto faccia allora. Ecco ora con la foto. Faccio girando la foto. No, ragazzi. Può chiedere, sali? Chi sono? Allora, sopra 10 kg quanto sali? 1,5 kg. Si è un carincio qua. Giro, te metti pesce con te le gambe. 120 grammi? 2. 2,20 sopra 10 kg. 2,20. E tu e l'acqua contro un decano, come facci? Non lo vedi? Non lo vedi? Quanti mi portano? Si, si. Quanti mi d'arriva? Ma vengono bene, ma si lavora. L'arriva anche a cruspa, no? Si, si, a cruspa. Questa è la ponte della morte. Sì, come si è la morte. Stiamo tutti pronti, già le attrezzi. Si. Questa è la prima fase. Questa non va già a me. No, no. Scendono, scendono. Questo è grosso allora. Resta giù facciamo pane. Questa è l'angileia, questa è l'angileia, questa è l'angileia, questa era l'antica però, la mia famiglia è molto giovane, poi vediamo a che serve, poi vediamo, questa è la prima fase. Questa è la prima fase di scegliere, questa è la prima fase di scegliere. Quindi quando hai amato un libro, hai cos'è la prima cosa? Sennò quanto ti imparci? Quanto ti imparci? Ha tutto finito? Quanto ora ci vuole? È indipendente da come salire da. Fa tempo per me. Non ti imparci a grado. Non ti imparci a grado, non ti imparci a grado. Io devo dire che faccio lì due volte, se imparci più. Sì. E di solito mi lavavate le quacce allora? Mi sono lavato le quacce e le cinque. L'avete già compagliato? L'avete già compagliato. Ha visto. E poi? Quanto vi imparci? No. E poi... ...desso la sono salita. E poi la sono salita, no? Sì. Sì, sì. Le palme sono rivolte e sono lì a usare. Faccio tu lì? Ma troppo non c'è uno. Perché? Perché lo facciamo e lo facciamo. Ho visto. Ma siamo salita un momento di luoghio. Ma pure il mio avuto, ma poi lo mettiamo. Adesso. Puoi chiudere se si può. Questa è il passaggio, dopo che ci arriviamo tajalina. Che facciamo, signora? Lui mettiamo l'olio e l'acqua. E un pantalino? Ha visto? Ma abbiamo tutto, come si è inbezza? Questa invece è l'olievito, vediamo come ho preparato l'olievito. Non si, 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 ma così. Ma che ci faccia la siria? Si, che ci faccia la siria? Abbiamo la harina che ci metto l'olievito. E ora lo spiegate, come mettiamo l'olievito? Si, ma è un po' che è pasta e che sta qua, quando ha cibo. Ora faccio il pane, quando finisci tutto, cacciate un pochino di pasta, con l'olio. E' un po' il resto l'olio nuovo. E dove ho stupato? C'è un congelatore. Quando mi sai che ho cacciato? Lava prima, ho cacciato la mattina e si scongela. Ah, a ieri? Ho cacciato la mattina. Si, a ieri mattina. Si scongelò, a ieri sera e ci sono lavato. Ah, ci sono lavato. Hai visto? E tra 10 kg quanto ho lavato? Un pochino e mezzo. Un pochino e mezzo di carina? Un pochino e mezzo di carina. Un pochino e mezzo di carina. Però allora, ora ho un pescato con questo. Che sono lì avete un pasta carina insomma? Che facciamo allora? Ma... C'è anche scarsa l'olio? Si. Ma che vai lì? Ma la portante. No, la portante è piccolina. Allora vedi che c'è? Ah, c'è la pasta qui. Ah, è piccolina o vuole? Ah, è piccolina bella. Ah, ci sei. Eccolo. Ah, allora, esci. Eccoci qua. Allora, è piccolina arc fatica? Ah, il miento. No, la portante è piccolina. Un pochino. Quasette, appartamento. Anche sulle al queste carina. Eccolo al questo. Eccolo qui. Allora, qui se accedi l'acqua ti è piccolina? Ah, va a piccolina. Ah, va a piccolina. Ah, va a piccolina. Grazie. 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 E poi ho maniato. Invece vi tirò poco d'acqua. Se si sguardiamo. Voi l'avete pesata? Sì, sì. Perché le grammi fa 10 kg e viene salito al punto giusto. Scatare. Sempre salire. andiamo a fare una stessa chiamata. Scatare. 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 Un pezzo. Scatare. 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 e il pediblico e il gianito. Come vedete la pasta è arda, ma noi sprecciamo un lievito, ma l'olio non lo facciamo? L'olio facciamo un lievito, se no ne sprecciamo assai. Se facciamo i lieviti, la pasta viene più morbida, perché quando si secca sotto la lievita, resta poco. La lievita prima. Ora facciamo via le forme di pane e facciamo la lievita prima. Di solito io faccio la lievita come la mia. Gostavo la lievita e tornavo a lievita due volte. Ma che metti su un po' la tavola? Prendi sotto. E mi sto cercando. E' anche sotto. Ora facciamo le forme di pane. La carina non lo facciamo. Come chiamiamo? Pinto e minieri. E faccio pure un po' i bastoni. Bastoni. Ma ci vede la carina. Sì, se no, attacca. Allora, abbiamo visto che più o meno erano i sette e mezza, l'otto meno venti. Sono le 8 e venti e poi ho un pastato con la signora, c'è la maniera. Questa, ha fatto tutto da sola. Lui è l'assistente. Assistente. Cosa il mio manetto? Stavo guardando. Solo guardavo con lui. Pane in casa. Pane in casa. Mi chiesto che prendono. Dino che ho fatto il suo corno in linea. Ma io non mi vengo prima. No. Ci vuole troppo tempo. Ma si faccia com'anni, no? No, perché quando fai tu, di sotto rimane un carboncello. Certo. No, perché il corno, quando fai tu, di sotto rimane un po' di resta. No, no, no. L'ordia, il carbone, il nero. No, no. Allora, perché? Voglio qui, ma ti fai stare un po' quando è levitato. Puoi andare tanto. Allora. Allora, questo è il nostro corno, signora Teresa. Questo è il bastone. Bastoni? Bastone. Questi vengono per le longarine, allora. Faciti, mi ne iuzzo il bastone. Mi ne iuzzo il bastone. Mi ne iuzzo il bastone. Corrui e neri. Corrui e neri. Corrui e neri. E una volta mi ricordo qua. Ma manco pitti, faciti? No. No. Mi ricordo una volta. Eccoci qua. Qui si aggiunge l'altro pane. Si aggiunge l'altro pane. Ma a seconda quanti chili di potete fare? Quanto ne volete di nuovo? Sì, sì. Quindi qua, la prossima vado che faccio il pane. Ma ora faccio il lievito. Ora faccio il lievito. E poi il lievito come faccio? Congelato? Sì. Quando è il lievito? Sì. Quando è il lievito? Questa è la mini? La mini minnella? La mini minnella. La mini minnella. Che si fa il bimbi. Questa è la mini minnella. Questa è il cuocchina ci vuoi. Sì. Interessante, no? Sì, sì. Non ci si spreca niente. Non si spreca niente. Non si spreca pa caso. Hai visto? Ecco. Lei è finito. Il pane è pronto. Ora aspettiamo. Ora occupiamo. Ora vediamo cosa facciamo. Ora vediamo cosa facciamo. Ora vogliamo bollare il nostro plesso. Questa c'è un bello caldo caldo. Questa c'è un bello caldo caldo. Questa c'è un bello caldo caldo. Se no lo so io. Ok. Allora dicevo che è stato così svelto che è una ora. Facciamo un po' carino. Facciamo i forni dei panini. Facciamo i forni. Facciamo i forni. Facciamo i forni. Facciamo i forni. Ho un po' di altro bello caldo. Sì, sì. No. Ma se sei un po' pesante il lievito stesso. Ma ti sono leggeri. Sono leggeri. Non vado a diventare più pesante. Non vado a diventare più pesante. Non vado a diventare pesante. 12 e mezza, si impaccia sempre un po' di odori, va bene quando è pronto poi vediamo la fase prossima, dopo circa tre ore, allora stamattina dimisimo le 17 e mezza, diciamo giornitura, abbiamo fatto l'impasto, ecco oggi è venerdì 20 ottobre, 21 21 scusate, sono le 12 meno un quarto, ed è pronto il forno, stiamo accendendo il forno, pronto, diciamo il pane è pronto, potremmo vedere come ha lievitato qua, vediamo come sogno, mamma mia, bella, hai visto? sempre c'erano tre ore qua, siamo lievitati, si, erano i nuovi manoviti, 5 ore giusti, è fatto quando sta pronti, si, allora voi spiegate tutto quello che preparo, ora facciamo il forno, come ha fatto i raschi, hai visto? i raschi, adesso mi faccio la parola, una volta che non mi prendono, ho un bosco, ho un bosco, ho un comune, perché non c'erano tanto lo parola, certo ci sanno 장ata, per poco non mi prendono, c'erano anche, come ho provato, ci ritacciono, Morimia, come aprizzate la temperatura? come vogliamo? Non, non. ivele tenemos la rotina, le vostro rip barki, siamo appiccionati! No, no, no No, no, no È quasi pronto il turno, come? Vediamo che facciamo ora Che stiamo usando ora? Un rastello Un rastello E poi lo prendiamo Ma i bracci tirano davanti? Sì, ora lo prendiamo Comunque tu sapete se è pronto Vediamo Un rastello Un rastello Vedete Vedete Che facete? Per la gente Facciamo un po' di luci Ah, hai visto Adesso Vedete Domenico aiutali Facciamo Ma che è questa? Un pallone Che faccio? Ho fatto con i pallone E poi ci mettiamo l'acqua ora puoi pulire il cuore si, ora vediamo come puoi pulire il cuore a che l'anno? sono le ore 12 e 20 e il signor Vincenzo ci ricorda che oggi è giorno 21 ottobre venerdì 2000? iniziando stamattina alle 7 e mezza la giornitura e poi l'impastatura a mano poi abbiamo fatto le forme, i minieri i bastoncini, i carti, i battoni la giornitura e la giornitura dalle 9 a meno 20 circa alle 11 e mezza era pronto poi facciamo il cuore i miei tasti riusciamo a chiedere il necessario vittimo la temperatura la giornitura che è una buona ora puoi pulire prima puoi pulire il piede ora puoi pulire l'acqua puoi pulire tutti i bracci e ora puoi pulire e poi non lo mangiamo poi non lo mangiamo ci dico no prova no allora vediamo che facete ma andiamo si intacca? la solle per chi si intacca? la buona più bella 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 ma solo gli bastoni si caggia solo gli bastoni bella vediamo domenica le prese con il pane ho scantato la torta si 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 ma verso il menzio giorno con paria stamattina c'era pure ma ma non si è fatto era alle riprese era alle riprese era dietro le quinte dietro le quinte non è tanta come si dice è vergognosa non si lavora lavora ma dietro le quinte ah si il suo lavoro è non si l'importante è partecipare l'importante è partecipare allora ma vediamo ora stai capigliando viva con me si o provo viva si non metto troppo troppo caddo no quindi si ha carina si brucia avviato non è è forte è forte ma che faccio allora ma gli è stata carina ma avanti siamo tornati a fare avanti diciamo che si può aspettare l'importante è che non è freddo se no la nostra cucina è buona e non si può aspettare no 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 voglio dire non si richiede eh che io non no 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 se no poi allora ci mangiare la ceramida ecco ma come ho mentito pochissi dico perché ha mentito la ceramida occupati non mi so quando ah hai visto quanto si imparano non andiamo vediamo vediamo come spiglia e l'abbiamo già tutta e se voglio super la pala no si andiamo prendendo una tu Grazie a tutti. E' come mentiti. Ognuno va alla forma sua? Eh sì. C'è i punti specifici, no? Aspetta, qui c'è questo. C'è un po' la patonna? Sì. Prendiamo tu una pennella. Sì, ora prendiamo un bastone e un pigliaiglio, prendiamo una pennella. Vediamo. Lo spingiamo dentro. C'è un po' la carina. Ah, hai visto quei bellomeli? Ah, è casareccio, parte in casa. Pronto? Ecco. Hai visto? Circolando soli? Sì. Un po' di farina. 10 kg contati contati. Un po' di farina. Un po' di farina. È già calcolato. Questa è l'ultima. È già calcolato un po' di farina. È calcolato, vediamo. Eccoci. Questa è l'ultima. A posto. Eccolo c'è qui. Oh, vediamo che si fa. Il resto è solo un uovo. Pure un uovo. E lì è bello, lì ha detto pure un uovo. Ok, sì. Vado a mettere su un piatto. Oh, vediamo che faccia la signora Teresa. Un po' di farina. Un po' di farina. Un po' di farina. E vorresti... ...i tracetti dintro? Sì. Allora, prima ti sei dovuto in bagno. M'ho occupa. Un po' di farina. Ecco. Si chiude per bene. Il lavoro è fatto. Il lavoro è fatto, no. Buon. Ma è un po' di farina buona. Questa è tutto con il lavoro. È il lavoro. Ma sono le 12 e mezza. E ho un pane e ho un corno. Ora stai facendo un po' di cucina. E dopo dove mangiare? Allora, ma che facciamo? Vediamo. Vediamo. Chi? Vediamo il pane come è. Quanto è passato? 10 minuti. 10 minuti. Allora, 10 minuti e vediamo com'è. Ecco, vediamo. Un colore. Ancora vola. Ancora vola. Ancora vola. Si. Allora. Com'è? È buona temperatura? Si, si. Sta cucinando. Chiudiamo. Torniamo a chiudere. Allora. E sta pronto? Pronto. Cacciamo. Eccolo qua. Pronto. Prontissimo. A posto. Arrivederci. Ciao. Grazie. E grazie. Sono le ore una. Quasi un quarto. Un quarto. La signora Teresa è disponibile di stamattina è stata in mezzo. Andiamo. E facciamo una bella giornata di pane. Ah, ci vuoi? Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare tutto. Arrivederci. Ciao. Ciao alla Proloco. Oggi siamo qui al panificio della signora Gina, 29 dicembre 2011, e che ci mostrerà come fare il procedimento dei zeppoli. Di zeppoli. Allora, come iniziamo? Farina. Mettiamo la farina. Granuluro e grano tenero. Tutti insieme. Granuluro e grano tenero. Mischiato. Allora, come stiamo vedendo, qui siamo in un panificio. Quindi stiamo riprendendo il panificio per vedere il procedimento di come si fanno oggi. Le macchine e le nuove tecnologie. 45 kg di farina, Ava e 15 kg di lavato. Le macchine. Quei ce li abbiamo qua. Ecco. Se l'ho lavato come si faccia la signora Gina? Ho lavato, si faccio con un po' di pasta vecchia e poi no, mentre la farina ha una giusta. Viene fatto la sera prima? Ecco. Viene fatto la sera prima, no? La sera prima, si si. Questa ingridiente sogno per quanto? 60 kg. Per 60 kg di farina, ok. Sì, sono 40 kg, 15 kg, non 60 kg. Esatto. Ma che cosa... Ma mettiamo... Ma per ovvero se... Aspetta. No, aspetta io. Ma io ho la base perché mi avete aggiunto. E' semplastato. Qua ci sono le passatrici. Abbiamo l'acqua. Quanto vuole? Io ho l'acqua regolata. Quanto vuole? Guarda. Di acqua non è già un po' regolata. E sei abituata tutti i giorni giustamente. Sì, guarda. Come regola la pasta, come questa e come non è. Mettiamo l'acqua. Mettiamo l'acqua. Ecco, non lo facciamo. E' trovato le passate rigeo. Certo, cerchiamo. Ecco, non lo facciamo. E ci hai pensato. Governo, veniamoci. E' da forno. E' ho senato. Un po' prima lalo. Aga non ci hai pensato. E' l'agri bene. E' da forno. E' da un po' prima l'alto. Anno. E' da il figlio. E' da una l'alto. Grazie a tutti Quanto è di vola? Sali 700 grammi. 700 grammi per 60 kg, ricordiamo. 60, 60? Sì. No, 60 grammi per 1 kg. 1 kg, correggiamo. 1 kg. Asciuga un po' la pasta. Qui abbiamo le vasche pronte per mettere l'impasto. Questa è elastica. A posto. Aspetta che facciamo. Allora, facciamo. L'impasto è pronto nelle vasche. le friggiamo che ricordiamo che c'è la zeppolata alle 18 salutiamo la signora gina e grazie per il 2011 fate un bel saluto queste sono le zeppole vediamo la sequenza c'è domenica che taglia come si chiama su musica taglia la pasta poi tutti gli altri si chiama cosa 1 2 a e b ci freggono poi l'amica quindi questo qui è il vassoio pieno di zeppole da friggere e di là c'è la frigitoria comandata dal ha detto alla sicurezza massa adesso andiamo a vedere lo step successivo qui abbiamo il nostro vice il nostro presidente eccola qua step successivo ecco come le nostre signore si apprestano a friggere se tendineci davanti le nostre zeppole perché giusi ramondino e sempre a mezzo ai iiii faccio sino ad ogni minestra o magari zeppola eccola la 2 3 ora mi ci mettono le zeppe aiuto l'alba 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 il Grazie.